Lo sai che lo squat non è per tutti? Ci sono infatti delle persone che hanno poca mobilità e che fanno fatica ad effettuare questo esercizio sentendo lavorare bene le gambe. Oltretutto se fatto male può essere anche fonte di infortuni. Vediamo quindi tre altre native valide per tutti quelli che sentono lavorare poco le gambe nello squat ma vogliono comunque allenarle in maniera efficace. Il primo esercizio che puoi introdurre nei tuoi workout al posto dello squat sono gli affondi con i manubri camminati. Sono un esercizio completo che va a allenare in maniera molto uniforme sia la parte del gluteo femorale sia quella del quadricipite. Sono un esercizio pesante e tosto che coinvolge anche tutto il sistema cardiovascolare e la presa perché ovviamente più i manubri pesano più noi faremo fatica durante la camminata a tenerli. La seconda variante è la macchina più pesante che puoi utilizzare per le gambe ovvero la leg press. Se c'è nella tua palestra ti consiglio di fare quella a 45 gradi con i pesi liberi in quanto riusciamo ad alzare più carico e si conforma meglio alla biomeccanica. Ma vanno bene anche quelle orizzontali o quelle molto più rare che di solito non si trovano in posizione totalmente verticale. Il terzo e ultimo esercizio invece è il prowler è un esercizio un po' strappato al crossfit quindi magari non riuscirai a farlo in tutte le palestre ma che se c'è è ottimo perché anche qui possiamo caricare liberamente la piattaforma che spingiamo e andare quindi a lavorare con carichi piuttosto importanti le nostre gambe che vengono allenate soprattutto durante le fasi di spinta. Se questo video ti è stato utile seguimi per tanti altri video.